La spending review non deve ripercuotersi sui diritti sociali e in particolare sulle famiglie in difficoltà. È quanto afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Nicola Benedetto. L'esponente dell'IDV condivide e sostiene l'appello dell'Associazione Libera perché nel 2013 ci siano meno mense per i poveri e più politica sociale. E sottolinea che a chiederlo sono le associazioni che hanno proposto alla Giunta e al Consiglio regionale di destinare le royalties utilizzate per la card carburanti anche alle categorie sociali in più acuto stato di bisogno. Un messaggio che a parere di Benedetto è soprattutto una sollecitazione alla classe dirigente della nostra regione ad abbandonare l'assistenzialismo caritatevole per imboccare la strada dei programmi di superamento del disagio sociale partendo dalla piena dignità delle persone in difficoltà economica. Grazie a tutti.